Sono in compagnia di Leo Gullotta che questa sera interpreterà Charles in Spirito Allegro per la regia di Fabio Grossi. Com'è il suo Charles? Com'è scritto da questo grande autore che è Noel Coward, che è uno degli autori inglesi più importanti del Novecento. A Londra ha un teatro dedicato. Questa commedia ha spirito non da spiritoso, è spirito da spiritello, da fantasmino, così come anche, ad esempio, Edoardo scrisse un testo sui fantasmi. Ma questo viene scritto, è una commedia molto elegante, molto particolare, che si svolge a Londra, ovviamente. Fu scritta nel 1941, durante la guerra in Inghilterra e quindi questo testo, Noel Coward, lo scrive per esorcizzare il concetto di morte. Strano il destino, che due anni fa, quando abbiamo scelto questa commedia, assieme al regista Fabio Grossi, oggi ci troviamo attorniati da concetti pesanti di terrore, di paura, di morte e quindi è un modo per esorcizzare la morte. Quindi invito tutti, a parte a vedere la commedia leggere, elegante, nella ricostruzione degli anni Quaranta, con i suoi vestiti, con le musiche dell'epoca, è una commedia di situazioni, è una commedia di equivoci, con i fantasmini. I fantasmini per la prima volta, questo testo è stato molto molto rappresentato, in questo momento viene rappresentato a New York, prima è stato rappresentato a Londra e gli interpreti sono Rupert Everett e Angela Lansbury. Angela Lansbury, per chi non lo sa, è la signora in giallo. Questo per dire che è un testo che a tutt'oggi, dopo tanti anni, funziona tantissimo, proprio perché c'è questa eleganza e particolarità di fondo, è uno spettacolo di rigore, lavoro con sei miei colleghi di grandissima bravura professionale, perché per fare la commedia, C maiuscolo, occorre molta professionalità, molta preparazione. Chi è Charles Condomain? È uno scrittore che per scrivere un libro sull'occulto, e lui non sa niente sull'occulto, invita a casa sua una signora che si interessa di occulto, ma la signora è un po' cialtroncella, però per una serie di eventi fa rivivere la prima moglie di questo scrittore e quindi da quel momento in poi arriva il fantasmino, accadono delle cose, lui è risposato, quindi abbiamo una moglie che non c'è più, è una moglie presente, fino a quando la moglie è presente, per una serie di circostanze anche lei va via e quindi si trova lui con due fantasmini che lo inseguono. Questo in poche parole, diciamo la commedia, l'abbiamo rappresentata da ottobre, un grandissimo successo, è stata vista da più di 35 mila spettatori, un spettacolo molto elogiato, uno spettacolo che soprattutto in questo momento esorcizza la morte, perché invito sempre a uscire di casa, questo indipendentemente da spirito allegro, perché dobbiamo uscire di casa in questo momento, bisogna stare insieme, nel teatro da millenni, è il luogo dove tutti quanti, sempre i cittadini si riuniscono per stare insieme, per parlare, per riflettere e così è anche questa volta, soprattutto per salvaguardare una libertà che il nostro paese, per fortuna democratico, ci ha saputo dare e quindi uscendo salvaguardiamo la nostra libertà e non sottostiamo a ricatti che arrivano in maniera pesantissima. Quindi uscite, uscite di casa, cinema, teatro, televisione, televisione magari poca, perché in questi tempi non è che sia, però i concerti, il libro, queste sono tutte cose che sono medicina per la mente, quindi uscite, state insieme. Se l'Ugulotta dovesse scegliere tra il teatro e la televisione, che cosa farebbe? È come dire ad una mamma, preferisci figli maschi o femmine? No, sono linguaggi completamente diversi che è un attore che fa questo mestiere, quello con la A maiuscola, deve conoscere come linguaggi, sono i linguaggi del palcoscenico e quindi bisogna essere preparati da quel punto di vista, anche tecnicamente, sono i linguaggi della macchina da presa, sono i linguaggi del microfono, è come un medico, un medico non è che opera soltanto appendiciti, però un medico deve conoscere il corpo umano. Nella sua carriera, costellato da grandi film, mi viene in mente quello con Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, ce n'è uno in particolare che le è piaciuto, un ruolo? Ce ne sono tanti, c'è Vaillont sulla tragedia caduta a Longarone, quindi anche una cosa storica, c'è Scugnizzi di Nanni Loi, c'è Un uomo per bene, tutto il processo su Enzo Tortora, ce ne sono diversi, poi ci sono anche le commedie, ho iniziato con i film delle dottoresse, sono 54 anni di carriera e da qualche giorno 70 anni, no ci sono tanti tanti incontri, io ho sempre avuto incontri di lavori iniziati sempre da un punto di vista umano, i rapporti, le crescite, sono queste le cose che mi piacciono, che mi hanno fatto crescere in così tanti anni incontrando belle persone e straordinari uomini di cinema, di teatro, tante cose, forse per come è accaduto in questo paesino della Sicilia, in questo cocuzzoletto di 3000 anime dove siamo rimasti per tre mesi in maniera particolare, dove c'era un cast che è difficilissimo oggi poterlo fare, Filippe Noiré, Jacques Perrin, Enzo Cannavale, Popella Maggio, Isa Danieli, Leopoldo Trieste, pensate un po' il cast, ed è stata una bellissima, meravigliosa magia, ed è stato un nuovo cinema paradiso, ma proprio per questo, per questo motivo, non è che gli altri siano da meno, e poi questo meraviglioso regista Tornatore che personalmente lo definisco un poeta della macchina da presa. E c'è un sogno nel cassetto, un ruolo, un personaggio che ha desiderato, desidererebbe interpretare? Ne ho fatti tanti signorina, ma proprio tanti, come si può desiderare? Quello che viene stuzzicato, d'altra parte l'attore con la A maiuscola è un interprete, cioè interpreta personaggi lontano da sé, e quindi ogni personaggio, ogni spettacolo, ogni film è un viaggio dell'anima, al di là dello studio di tutto quanto, di ogni personaggio così diverso l'uno dall'altro, bisogna trovare, quando si trova, l'anima di quel personaggio che non è scritta nessun copione.